Nel progetto JUT l'US Avellino 1912 da quest'anno ha inserito anche la categoria Under 16 nazionale aggiungendo una formazione in più al settore giovanile. Un progetto voluto per dar continuità alla crescita dei giovani calciatori seguiti passo dopo passo. Il campionato vedrà l'US Avellino a parteciparvi per la prima volta dalla fondazione del torneo. Dopo aver disputato la prima gara di campionato domenica scorsa contro la Cavese in trasferta vincendo per 2-1 il club ha voluto integrare lo staff dell'Under 16 assegnando nella guida tecnica l'ex difensore biancoverde Alessandro Fabbro. Luca Tulino che ha svolto egregiamente il ruolo di primo allenatore pro tempore continuerà a collaborare con il ruolo di vice e preparatore atletico. Sono confermati i ruoli di Massimo Rega preparatore dei portieri del team manager Francesco Weber. L'ex difensore biancoverde dopo aver assistito alla prima gara della formazione esordirà in campionato domenica 18 ottobre contro la Paganese. Un incarico, quello affidato ad Alessandro Fabbro, che punta alla crescita dei giovani calciatori con l'esperienza di alcuni giocatori che hanno fatto parte della storia del club cittadino. Fabbro torna in Irpinia dopo l'ultima stagione disputata nel 2015. Un amore, quello per i colori biancoverdi, che è durato fino ad ora, con l'ex calciatore che non si è mai tirato indietro nel raccontare gli anni passati in città. Adesso l'ex difensore è chiamato ad assumere un incarico molto importante data l'attenzione della proprietà per il progetto JUT. Intanto, rimanendo sempre all'interno del progetto sportivo dedicato alle giovanili, ieri è stato sorteggiato il giro nel calendario della formazione Beretti, ora Primavera 3. La formazione dell'Avelino Calcio è stata inserita nel giro NEF. Insieme a Casertana, Cavese, Foggia, Juve Stabbia, Paganese, Potenza e Turris, l'esordio in campionato è previsto per il 24 ottobre contro il Potenza.